Salvo la cosa, complimenti, la seconda settoria consecutiva che vi fate, oggi è la tesoria, la tesoria è la tesoria, la tesoria è la tesoria, la tesoria è la tesoria. Ho cambiato relativamente, la partita abbiamo svolto tutti insieme, abbiamo avuto un attimo in più di cattiveria degli avversari, siamo riusciti a rimontare il risultato e siamo passati, abbiamo conquistato i tre punti per scalare la nostra passifica. Ambizione sul torneo? Ambizione, la prima cosa che è importante è divertirci, poi tutto quello che viene è tutto di cui guadagniamo. Grazie.